Gossipitavip, se lo sussurra, lo svegliamo. Martina Luciani, ex corteggiatrice di Uomini e Donne, ha detto sia il suo compagno Fabio, condividendo sui social i momenti del loro matrimonio. Martina era diventata famosa nel 2506 quando Giorgio Alfieri, tronista del celebre programma, la scelse come sua compagna. La loro storia d'amore fu seguita con passione dai fan, culminando nella nascita della loro figlia Asia. Nonostante gli alti e bassi con Giorgio, la coppia è riuscita a mantenere un rapporto sereno per il bene della loro figlia. Dopo anni di relazioni difficili, Martina ha trovato la felicità con Fabio, con cui ha iniziato una relazione nel 2021. Fabio, anche lui padre di due figli, e Martina hanno formato una famiglia allargata che funziona armoniosamente. Le immagini delle nozze hanno emozionato i fan, che non hanno mai dimenticato Martina, una delle corteggiatrici più amate del programma.